Allora, Paolo, ho qui tra le mani questo numero di micromega nel quale c'è una tua lettera aperta, una lettera aperta a Nanni Moretti e ad altri. Perché hai scritto questa lettera aperta? È una lettera aperta ai movimenti, si intitola Caro Nanni, cari tutti. Caro Nanni perché ha avuto un ruolo nella stagione dei movimenti e dei girotondi particolare e fondamentale e quindi era giusto rivolgersi a lui. Cari tutti, era ormai un modo di dire nelle lettere, nelle mail che da San Giovanni in poi ci siamo scambiati tante volte per discutere sul da farsi. Ma la necessità di parlare ai movimenti per me nasceva dal fatto che tutti constatiamo come dopo alcuni anni di presenza in piazza fortissima di movimenti diversi anche fra loro ma con un elemento comune di critica alla sinistra ufficiale. Movimenti che hanno rilanciato un centro-sinistra che quando i movimenti sono nati era in stato comatoso, a dir poco, e quindi sono stati fondamentali nel far vincere al centro-sinistra elezioni locali e alla fine elezioni, le elezioni politiche. Però il risultato, dopo alcuni mesi di questo governo, che senza i movimenti non avrebbe mai vinto, è una politica che disattende in modo radicale anche le speranze più minime di cui quei movimenti erano portatori e diciamo anche le speranze di una parte minime, di una parte vastissima dei cittadini democratici che per il centro-sinistra hanno votato. Non è un caso che ad ogni sondaggio che viene fatto, anche a distanza di una o due settimane, si deve registrare 5 punti in meno, 10 punti in meno, 15 punti in meno nel gradimento, soprattutto da parte degli elettori democratici di centro-sinistra, verso questo governo. Nessuna delle leggi vergogna che aveva fatto Berlusconi, delle leggi canaglia vere e proprie che aveva fatto Berlusconi sono state abrogate. una delle cose più gravi, cioè quell'insieme di nuove normi chiamate riforma della giustizia, ma in realtà contro riforma, contro la giustizia, stanno una dopo l'altra entrando in funzione. Era stato promesso alle associazioni magistrati da parte di questo governo che invece o con un decreto con una legge, ma sarebbe stato bloccato tutto e oggi i magistrati sono di nuovo costretti a domandarsi se ricorrere a quell'arma che per un magistrato è veramente qualcosa che non vorrebbe usare mai, cioè lo sciopero, per riproporre la drammaticità della situazione giustizia. E quindi tu dici che l'imprinting di questi primi cento giorni del governo Prodi è assolutamente negativo. È assolutamente negativo. L'unica cosa buona è quella timidissima modifica nella interpretazione della legge sulla droga per cui le dosi minime al di sopra delle quali si va in galera sono state un po' alzate. Che cosa è successo che ha vanificato tutto l'impegno di milioni di cittadini durante i movimenti e siccome io non ho l'abitudine di domandare agli altri dove avete sbagliato, innanzitutto mi domando dove abbiamo sbagliato noi. E allora è una lettera che in realtà è un lungo saggio, sono quasi 30 cartelle. Dove abbiamo sbagliato? Io cerco di esaminare tutte le ipotesi per aprire un dibattito. Infatti il prossimo numero di micromega che magari sarà già uscito quando andrà in onda questa trasmissione perché esce il primo dicembre questo nuovo numero avrà circa 16 risposte mi sembra molto impegnata di persone che hanno partecipato ai movimenti e ciascuna delle quali cerca di approfondire un tema che io ho trattato o magari di contestarne un'ipotesi. Abbiamo sbagliato nel pensare che la nostra funzione poteva essere solo quella di stimolo dei partiti. Non abbiamo preso sul serio le nostre stesse analisi perché noi che i partiti fossero quello che sono cioè ormai anche i partiti del centro sinistra degli organismi oligarchici e autoreferenziali. L'avevamo detto, scritto, analizzato. Su micromega in vent'anni non facciamo altro ad ogni numero che portare un tassello di analisi teorica o empirica a questa ipotesi. Cioè che anche a sinistra ormai c'è la partitocrazia. naturalmente non tutti i partitocrati sono uguali ma fondamentalmente sono portatori di loro interessi in quanto professionisti della politica e sempre meno di interessi dei cittadini che si incaricano di rappresentare nelle istituzioni. E infatti così si sono comportati. Allora noi sicuramente abbiamo sbagliato nel non prendere sul serio le nostre stesse analisi e cioè nel non essere rigorosi nel capire che nel momento in cui portavamo in piazza milioni di persone i partiti cercavano in tutti i modi di essere presenti anche loro e anzi avrebbero voluto organizzare con noi certe iniziative ma che poi avrebbero voluto utilizzare quella forza esclusivamente per la loro politica. Ora la loro politica si è sempre più dimostrata ma era stata già dimostrata nei cinque anni in cui erano stati al governo fondamentalmente la politica dell'inciucio. Si è subito riaffacciata con straordinaria prepotenza con l'indulto bipartisan. Strumentalizzare una tragedia reale per fare una porcheria aggiuntiva perché le leggi sulle tossicodipendenze e sull'immigrazione rimangono sostanzialmente tali quali. Quindi passato qualche mese di nuovo una marea di cittadini niente affatto socialmente pericolosi torneranno in carcere e in carcere magari diventeranno socialmente pericolosi perché le carceri sono una scuola di un'università di delinquenza come è a tutti noto. intanto sono usciti e usciranno o non entreranno in carcere tutta una serie di persone che reati odiosi, altro che odiosi, li hanno commessi e come? Tutti i reati dei colletti bianchi cosiddetti, tutti i reati che vanno dalla corruzione alla falsificazione dei bilanci all'imbroglio ai piccoli azionisti, al non rispetto delle norme sull'inquinamento o delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, le morti per diossina, le morti per tumori da condizioni di lavoro inquinate, le morti nei cantieri, escono personaggi efferati. La donna che era a capo del traffico di carne umana dalle coste dell'Africa del Nord all'Italia, madame, non mi ricordo come si chiamasse, stava in carcere, è uscita perché con i tre anni di condono più un anno e qualcosa che aveva già scontato, se n'è uscita bellamente. Che segnale è questo? È il segnale della impunità per una serie di delitti veramente che sottolineano il carattere di classe della nostra giustizia. Torniamo un passettino indietro, nel senso che tu dici dove abbiamo sbagliato e la tua analisi è che per esempio uno degli errori che è stato fatto, quando tu parli di movimenti, in realtà non parli solo dei movimenti di giritorno dove tu sei stato protagonista, ma parli anche di movimenti no global, quelli sulla pace o il movimento sui diritti sindacali, quindi uno degli errori secondo te è proprio quello di non essere riusciti a fare un fronte unico? Sì, però, per poterlo fare bisogna incominciare a capirsi e a capire che fino a che una parte di questi movimenti continuerà a pensare che la lotta per i cosiddetti diritti civili e costituzionali che caratterizzava i girotondi è, diciamo, il primo passo radical borghese, poi c'è il vero passo di sinistra che è quello contro il liberismo, non si capisce nulla della reale situazione, perché in una delle risposte che mi sono arrivate e che pubblicherò appunto il primo dicembre, Dario Fo dice la questione dell'informazione oggi lo sappiamo tutti è più importante di qualsiasi discorso politico, verissimo, ma una lotta operaia, se viene oscurata dai mezzi di informazione, è la stessa lotta operaia, ha le stesse chance di vincere? Ovviamente no, e allora la questione della lotta contro il berlusconismo non è una questione di diritti civili che non ha a che fare con i diritti sindacali, è esattamente il cuore anche della lotta sociale. Io dico sempre che se ciascuno di noi provasse a fare un esperimento mentale, che cosa cambierebbe sul piano della diseguaglianza sociale cinque anni di rigorosa politica della legalità? Proviamo a pensarci, in cui le mafie non possono più fare quello che vogliono, i politici non possono più corrompere o essere corrotti, gli appalti non vanno più a chi è più ammanicato e una volta che li ha vinti non può chi li ha vinti più permettersi di utilizzare lavoratori in nero senza rispettare le norme di sicurezza e così via. Facciamo tutti questi esempi, allora uno capisce che una semplice, altro che semplice, politica della legalità, significherebbe perlomeno dimezzare, ma io credo molto di più, la questione sociale, non la questione dei diritti civili, la questione sociale sarebbe un uno strumento di rilancio dell'eguaglianza ma potentissimo. Ecco che già oggi una battaglia per la legalità e cioè per leggi che una volta che stabiliscano dei criteri debbono poi comportare delle sanzioni per i padroni che quelle leggi non le rispettano. Di questa situazione di ingiustizie di fatto che una politica della legalità sanerebbe immediatamente sono responsabili allo stesso titolo la cosiddetta sinistra radicale che come mi risponde giustamente Furio Colombo in uno di questi interventi in Parlamento non esiste e la sinistra cosiddetta moderata. In realtà IDS e Rifondazione sono due facce della stessa realtà che è la sinistra partitocratica dal punto di vista della lotta contro il berlusconismo e quindi della cancellazione di tutte le leggi vergogne eccetera. Bertinotti è perfino sempre stato più tiepido degli altri inciucisti figuriamoci un po'. Assodato che Nanni Moretti non avrebbe mai accettato di entrare in politica candidandosi o diventando leader di una forza politica ma se cofferati invece dopo Firenze quella famosa assemblea e dopo Ravenna quando tu gli chiedesti io mi ricordo ancora di non accettare la candidatura a sindaco di Bologna ma se conferati avesse accettato di rappresentare queste istanze sarebbe che non ho cambiato le cose. Tu sai il detto romano se mia nonna avesse ecco non si fa ovviamente mai la storia in questo modo però è sicuro che c'è stato un momento in cui la sinistra dei partiti era straordinariamente in crisi i movimenti erano straordinariamente forti e cofferati rappresentava il dirigente simbolo ma non a caso della possibilità di riunificare movimenti e base dei partiti in una prospettiva di radicalità nuova non da vetero sinistra che sarebbe stata capace di strappare consensi perfino a chi aveva votato per la destra. Quindi c'è stato un momento magico in cui era possibile che nascesse diciamo che il zapaterismo nascesse in Italia nascesse prima che in Spagna e forse in modo perfino più energico che in Spagna. Questa è stata la realtà e questo momento magico è passato per motivi che io ancora non riesco a capire. Cofferati ha mollato e a quel punto i leader non si possono improvvisare. Io credo aver detto altre volte che nel corso degli anni dei movimenti dei possibili leader espressi dalla realtà erano stati Francesco Saverio Borrelli Nanni Moretti, Cofferati e Strada per motivi diversi. Alcuni addirittura ovvi pensare che Borrelli lo potesse diventare. Borrelli secondo me doveva essere il candidato delle sinistre del centro e tutti democratici alla presidenza della Repubblica. Ma Strada per altri motivi non poteva, però nessuno di loro per i più diversi motivi ha svolto questo ruolo. Chi diciamo aveva più motivi per svolgerlo e in effetti a un certo punto era proprio il candidato naturale e obbligato a svolgere quel ruolo e si era mosso come se lo volesse svolgere perché quando Cofferati torna a lavorare alla Pirelli. Finito il suo incarico di sindacato non accetta nessun altro incarico. Torna a lavorare alla Pirelli e passa tutte le settimane a lavorare alla Pirelli e tutti i weekend a girare l'Italia facendo iniziative in cui mette insieme appunto in una formulazione nuova lotte sindacali, lotte per i diritti civili, lotte per i diritti costituzionali eccetera, con un successo crescente, con un gradimento in tutti i sondaggi crescente eccetera, rimane a tutt'oggi inspiegabile l'improvviso mutamento. E il futuro invece? Come lo vedi tu? Il futuro. Naturalmente il futuro nasce da un presente in cui i movimenti non ci sono perché i movimenti, quando qualcuno domanda che cosa vogliono i movimenti, ma io rispondo sempre guardate che i movimenti oggi non ci sono perché i movimenti se ci sono si vedono, i movimenti si manifestano apertamente, i movimenti stanno in piazza, i movimenti significano decine, centinaia, milioni di persone che escono allo scoperto. può non essere la piazza l'unico strumento, possono essere centomila adesioni via mail per una petizione, ma comunque sono fenomeni che si vedono. Oggi questi fenomeni non si vedono, non ci sono. Quindi le persone che hanno partecipato a quei movimenti e che quindi hanno fatto un'esperienza personale, credo indelebile, quelle ci sono ancora e trovano tutte le occasioni possibili per manifestarsi perché chi pensiamo che sia andato a votare per le primarie, quando i più ottimisti osservatori pensavano che sarebbe stato un successo con 500 mila persone, quanti sono andati a votare? 3 milioni e 4, 4 milioni e 3 o 3 milioni e 4, ora non ricordo, ma una cifra proprio assolutamente sconcertante. Io mi ricordo che siamo andati all'ora di pranzo, perché ho detto tanto, passiamo, non troviamo nessuno e c'era una fila che non finiva più, è una fila felice, io non ho mai visto le file felici, erano file felici, dopo che la persona aveva fatto la sua fila e aveva votato, rimaneva lì a chiacchierare con gli altri in fila, cioè in realtà quella è stata una manifestazione di milioni di persone che invece di svolgersi in un unico luogo come quella col sindacato al Circo Massimo, si è svolta diffusa in tutta Italia, ma è stato quello. Allora, tutte le occasioni servono a chi ha vissuto quelle esperienze per manifestarsi di nuovo. Sono gli stessi che hanno molto entusiasmo per il Partito Democratico, per le aspettative che può aprire. Le nomenclature degli attuali partiti non vogliono un Partito Democratico che nasca dal basso, non vogliono un Partito Democratico, non dico consegnato al popolo delle primarie, ma neanche condizionato dal popolo delle primarie, questo mi sembra evidente. Cioè nonostante io credo che una parte di quel popolo delle primarie, di di quei cittadini dei movimenti, siano disposti a correre il rischio partecipando alla fondazione del Partito Democratico, anche se lo spiraglio sarà davvero minimo. Tu hai scritto, se non si faranno carico di risolvere i partiti del centro-sinistra, i problemi di conflitto di interessi, del pluralismo televisivo, della giustizia, e poi le uniche parole che sono in stampatello, ben chiaro, non li voteremo più. Ma sei proprio convinto di questo? Sì, sono assolutamente convinto. Perché quando io sostengo questo mi viene fatta l'obiezione sì ma comunque sono meno peggio di Berlusconi. È vero, è vero, anche il peggiore dei ministri di questo governo non è il ministro Previti. E quindi vorrei che nessuno, perché poi qualcuno fa le polemiche dicendo avete detto che sono uguali e peggio degli altri. No, questo è impossibile. Appunto anche il peggiore dei ministri o settosegretari di questo governo è meno peggio di Previti. Il punto è, ci può bastare questo? Perché noi abbiamo un governo che il berlusconismo di tutte le leggi vergogna e Berlusconi l'ha lasciato tale e quale. Ci ha aggiunto il carico da undici dell'indulto, tipica iniziativa berlusconiana, anzi che Berlusconi non avrebbe avuto il coraggio di fare da solo. In più, come dice giustamente Travaglio, non possiamo neanche dire che è un berlusconismo senza Berlusconi, perché il potere personale di Berlusconi è rimasto tale e quale intatto. Quindi, ahimè, è un berlusconismo con anche Berlusconi. Se basta non essere berlusconi per meritare il nostro voto, allora una volta che noi li abbiamo votati, poiché li abbiamo votati per il semplice fatto che non sono berlusconi, dopo che li abbiamo votati smettiamola di protestare. Perché? Li abbiamo votati perché ci basta che non siano berlusconi, anche se non faranno nulla di sostanzialmente diverso dalla politica di Berlusconi. E allora poi perché protestiamo se non fanno nulla di diverso dalla politica di Berlusconi? È un comportamento infantile, non possiamo fare il piagnisteo. A me personalmente questo non basta. A me personalmente non basta una politica che si differenzia minimamente da Berlusconi, perché ritengo che i cinque anni di Berlusconi abbiano lasciato questo paese un cumulo di macerie, macerie morali, macerie economiche, macerie politiche, macerie istituzionali, macerie sociali. Siccome questo è stato il berlusconismo, a me non basta una politica che si differenzi minimamente dalla politica che ha fatto macerie. Perché è una politica che allora lascia le macerie e ci mette su una ciliegina. Naturalmente la ciliegina è sempre meglio che niente, ma io credo che sia talmente al di qua del necessario. E il necessario minimo è ripulire da tutte le macerie per cominciare a ricostruire, non dico un grande edificio, ma una capanna vivibile, che almeno contro le macerie berlusconiane c'era una reattività sociale impressionante crescente. Contro queste macerie che vengono lasciate lì con qualche ciliegina sopra, aumenta invece l'apatia, la disillusione, l'apatia. Allora anche questo è da mettere in conto, anche questo diventa un elemento incredibilmente pericoloso, perché questo non fa altro che far crescere a dismisura le chance di un nuovo berlusconismo di berlusconi. E io non ci voglio stare a questa deriva che ormai è un avvitamento, proprio nel senso degli aerei che precipitano. Il primo dicembre esce questo numero di micromega con le risposte e con la tua replica. C'è anche la risposta di Nanni? No, no, non c'è. Nanni non si è fatto sentire con te? No. E tu come la vedi questa? Io la vedo, naturalmente, una risposta pubblica non me l'aspettavo, ma avrebbe fatto piacere, l'avrei considerata anche abbastanza normale che si facesse vivo in via privata per chiacchierare di temi di politica come abbiamo fatto tante volte. Che una risposta pubblica non ci sia non mi meraviglia perché mi sembra che Nanni, non da ora ma da tempo, abbia detto chiaramente che lui vuole tornare a fare il regista, a farlo con quella carica di impegno civile ma di impegno civile attraverso l'ironia che è la cifra del suo cinema e quindi da questo punto di vista non sono sorpreso. Rimane il fatto che la voglia di una politica nuova che c'era nelle milioni di persone che hanno partecipato ai movimenti e che li hanno auto organizzati, ancora c'è che questa voglia, questa passione civile o trova dei catalizzatori o rischia non solo di disperdersi in mille rivoli ma di diventare delusione e quindi ritorno nel privato, magari in un privato molto nobile ma di ritorno nel privato. Però la forza di un movimento o di possibili movimenti si vede anche dal fatto che i catalizzatori non sono gli stessi, diventano altri.